Gentili telespettatori, buona giornata. Salvini è stato invitato a Mosca dal ministro degli esteri Blavrov. Ma è tutto vero, sì. Lo rivela il quotidiano La Repubblica in un articolo scritto 4 maggio del 2022, cioè oggi dall'inviata Rosalba Castelletti e Emanuele Lauria. Salvini è l'invito a Mosca per incontrare Lavrov. Salvini, caspeterina, realmente pensate che a Mosca non sanno che era un cheerleader, che era un ragazzo pompon di Putin? Salvini non ha messo la maglietta di Putin una sola volta. Ci sono diverse fotografie, più occasioni con la maglietta di Putin. La maglietta di Putin in Piazza Rossa a Mosca, la maglietta di Putin al Parlamento europeo, la maglietta di Putin mentre stava guardando una mostra, e poi l'immaginetta a casa sua c'aveva la cornice con la foto di Putin. Ecco, chi di voi ha la cornice con la foto di un politico straniero? Credo nessuno in Italia, eh? Nessuno. Beh, Salvini sarebbe stato invitato a Mosca. Ovviamente un personaggio del genere fa comodo, fa comodo alla Russia. Allora, l'amico Berlusconi ha dato alla televisione Rete 4 per far fare una finta intervista che poi si è rivelata propaganda a senso unico, con una finta intervista di quel, di quel, come si chiama lì, quel brindisi che poi ha finito. Grazie, buon lavoro. Caspiterina, proprio un buon lavoro quello che stanno facendo, eh? Bravo, brindisi. Number one. The very journalist. E così. La partenza era prevista per venerdì. Sarebbe saltata, ma lui smentisce. Il leggendario capo della Lega smentisce tutto. Ma informazioni che ha raccolto la Repubblica parlano proprio della... c'era imminente la partenza venerdì. Infatti dicevano Salvini ha chiesto il visto. Non era una cosa buttata lì. Era reale. Era assolutamente reale. E così. Lui diceva ci sto lavorando riservatamente. Aveva detto davanti alle telecamere di non è. L'arena. Ci sto lavorando riservatamente. Infatti c'è un altro articolo che proprio parlava che Salvini aveva chiesto il visto alle autorità russe. Chiesto il visto perché realmente non era lui che voleva andare ma era stato invitato proprio dal governo russo. E io mi chiedo. Salvini che si è fatto far su e incartare dalla sinistra per fare leggere Mattarella. No? Si è fatto far su. È andato a fare la figuraccia in Polonia. Figuraccia leggendaria perché lui è leggenda come Will Smith. Io sono leggenda. La figuraccia in Polonia. La figuraccia in Polonia che a Mosca staranno continuando a ridere ancora adesso. Della figuraccia. Volete che Putin non ha visto che il sindaco lì ha tirato fuori la maglietta con la faccia di Putin? E quello se n'è andato via zitto zitto con il giubbotto da rally che aveva con tutte le aziende. Mancava il casco sotto braccio e il deltone, la lancia delta integrale lì, no? Sarà tornato in Italia con la lancia delta integrale, no? Ecco, proprio un articolo di Repubblica del 3 di maggio di ieri parlava di Salvini che prepara il viaggio a Mosca, chiesto il visto alle autorità russe. Fonti diplomatiche, scriveva ieri la Repubblica, riferiscono di una visita nei prossimi giorni. Giorgetti dice non lo so ma va concordato con il governo. Ecco, sarebbe dovuto presentarsi a Mosca non da solo ma accompagnato da una delegazione di cinque o sei esponenti della Lega. Immaginatevi che bella compagnia. Chi si sarebbe portato? Chi si sarebbe portato della Lega? Sarei curioso, non so, Borghi, Bagnai, Calderoli, al seguito Calderoli o magari ha chiesto a Bossi se voleva andare con lui, no? Uè, Sena tu, vieni con me, andiamo a parlare con quello là, in Russia. Ecco. Così fonti diplomatiche russe hanno informato i competenti canali istituzionali italiani di aver ricevuto una richiesta di visto da parte dell'ex vicepremier e dei suoi accompagnatori. Lo avrebbero, lo hanno invitato, lo avrebbero ricevuto con tutti gli onori e attenzione, attenzione, guardate che queste cose, io ho scritto un libro ultimamente, di queste cose le ho raccontate di tanti e tanti anni fa in Europa. Le tattiche, le tecniche della propaganda sono anche queste. Cercare di spaccare gli stati, invitando magari qualcuno che si capisce chiaramente che è Filoputino o lo è stato, ecco, invitarlo con tutti gli onori e fargli poi vedere e presentare una realtà precostituita, in modo che poi possa tornare in patria convinto o magari ancora più convinto delle sue idee in proposito. Ecco, non so perché Salvini ha rinunciato, lui voleva andare lì a fare il colombo della pace, lui sognava e sogna di tornare trionfalmente in Italia e prendere al prossima stagione il premio Nobel per la pace, di aver fermato tutto. Sinceramente l'iniziativa poteva anche essere incoraggiata, vai. Però visto il personaggio, visto che tutto quello che fa è improntato a motivi propagandistici elettorali e poi io realmente non confido molto nelle capacità politiche di questo signore, credo che la visita là sarebbe stata un qualcosa di assolutamente controproducente. Immaginatevi cosa avrebbero detto in Europa e in Italia quando l'ex cheerleader di Putin andava lì per fare la pace. Ecco, immaginatevi che polemiche e che disastro avrebbe portato una cosa del genere. Non so chi lo ha fermato perché sapete che Salvini non è che ascolta nessuno. Giorgetti ci avrà provato a fermarlo, l'avrà convinto? Magari Giorgetti ha detto guarda che poi ti diranno questo, ti diranno quello. Chi lo sa, rimane un mistero. Grazie a tutti e arrivederci.